Oh bolo del trading, buongiorno, eccomi. C'è gente che con il trading ha perso le mutande, io ho perso le scarpe. Va bene, a parte gli scherzi perché qui l'argomento è serio, però se vuoi recuperare le scarpe e le mutande, a proposito, mi piace proprio camminare scalzo, ma non solo nell'erba, poi non mancheranno i video di dialogo mio interiore, esteriorizzato a voce alta e mi registrerò. Va bene, e quindi io, niente, ti dico, se vuoi recuperare le scarpe, probabilmente anche le mutande, guarda, questo secondo me è l'attrezzo giusto. Scusa ma è un po' pesantino, ecco qua. Direi che questo renda l'idea, lo riconosci? Quindi ti aspetto al webinar sulla legge del martello. Ciao, ciao! Scusa ma è un po' pesantino.